Una strategia chiara, l'abbiamo titolato così questo video, un video in cui andiamo a spiegare qual è la strategia di mercato del Milan e da un lato facciamo una riflessione in merito alle sessioni di calcio-mercato che hanno contraddistinto il Milan di 6, 7, 8 anni fa e ovviamente anche quello che contraddistingue molti club nell'epoca attuale. Intanto andiamo ad analizzare quella che è la strategia. Qual è la strategia? Il Milan sembrava che dopo l'infortunio a corso a Tomori in qualche modo si piombasse sul mercato subito per andare a comprare un altro profilo perché sa benissimo il Milan che giocare solo con quattro centrali, visto l'infortunio di Kier, è sicuramente molto rischioso. Avere quattro centrali a disposizione per le tante partite, i tanti match che ci sono da qui alla fine dell'anno è sicuramente molto rischioso. Il Milan però ha grande fiducia nei suoi ragazzi, ha grande fiducia nel gruppo, ha in qualche modo responsabilizzato e sta responsabilizzando il gruppo perché il Milan adesso ha Calulu, Romagnoli, Gabbia. Questi sono in questo momento i tre centrali a disposizione e tra un mese poi tornerà a disposizione anche Tomori. Sicuramente il difensore centrale si farà, si farà nel mercato oggi di gennaio, ma non c'è questa corsa all'esubero di altre squadre. Il Milan non vuole fare un investimento di breve periodo, ma vuole fare un investimento importante, un investimento che poi possa avere futuro all'interno della rosa-rosso-nera, possa in qualche modo un acquisto centillinato. Non è una questione di budget, non è una questione economica, ma è la ricerca del profilo perfetto. Perché il Milan lo ha dimostrato, e lo ribadisco ancora una volta, lo ha dimostrato anche la scorsa stagione. Non acquista tanto per acquistare. Dopo, dietro ogni singolo acquisto, di qualsiasi ruolo che Milan ha compiuto nella gestione, Paolo Maldini, di che Massara e Vangazzini, si è stato centillinato, è stato studiato, analizzato, per far sì che quel profilo possa, in qualche modo, fin da subito dare un contributo alla causa-rosso-nera. Che non sia un peso per il gruppo, ma che sia un valore aggiunto. Quindi la strategia è questa. Non si vuole aggiungere una pedina nella rosa che non abbia un futuro. Quindi non si prenderà un esubero di un altro club, ma si vuole andare a cercare un giocatore, un prospetto interessante per il Milan, con futuro, che possa dare valore aggiunto al club. Quindi non si acquisterà tanto per farlo. Perché soprattutto, in un'ottica di sostenibilità, di efficienza, di spese, per poi portare risultati, è importante questo. Quindi questo concetto aziendale nel Milan è molto chiaro, nel Milan è molto forte. E vedo tanti che criticano questa gestione, che criticano aspramente il fatto di questo immobilismo di calcio-mercato. Però alla fine, in ogni ambito aziendale, in ogni campo della vita, alla fine parlano i risultati. In questo momento il Milan non si può, in qualche modo, non si può negare che il Milan è lì. Non c'entra la fortuna, è bravura, è strategia, è programmazione. Quindi bisogna avere fiducia. Non si comprerà tanto per farlo. Negli anni addietro al Milan, molte sessioni di mercato venivano non improvvisate, ma venivano a queste di giocatori che poi, dopo sei mesi, lasciavano il Milan, o che in qualche modo non erano congrui alle caratteristiche tecnico-tattiche della Rosa. Questo non succede, non succederà più. Il Milan vuole portare efficienza. Questo rapporto investimenti-risultati è un concetto molto interessante, molto importante, che ogni club dovrebbe adottare. Meno male lo fa il nostro Milan, perché solamente così questa ricetta, investo per portare risultati, investo su Tom Mori per avere un giocatore forte, un giocatore pronto, un giocatore di futuro per la Rosa Rossonera, questo è il mantra della dirigenza rossonera. Una strategia molto chiara, una strategia targata Ivan Gazidis, una strategia targata Fondo Iliot. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa strategia, di questa riflessione. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiedete di mettere un mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rossonera. Le riflessioni, in qualche modo, più interessanti, poi verranno lette in un articolo, in un nostro video, nei prossimi giorni.